Ieri, soltanto ieri, vi ho lasciato con un po' di curiosità, possiamo dire così, con un po' di hype generato, procurato, perché volevo parlarvi di un giocatore in particolare della Juventus, di quello che ha dato effettivamente alla Juventus e allo stesso tempo agganciarmi a un discorso al quale tengo molto, se non moltissimo. Perché oggi la Juventus sta facendo così tanta fatica a fare gol? Le risposte possono essere molteplici. La prima fa fatica contro le squadre troppo chiuse, che vengono a Torino per non prendere gol. Abbiamo visto Empoli, Roma e Napoli recitare questo copione e abbiamo visto la Juventus non far gol. Abbiamo visto anche che però quando la Juve riesce a fare almeno un gol, poi ne fa tre. Significa che questa squadra ha bisogno di stapparsi, mi è venuto male, peccato, speravo di fare un rumore più bello, però effettivamente questa squadra ha bisogno di sbloccarsi. Una volta che fa il primo gol, poi riesce in un modo o nell'altro, forse anche complice l'avversario che deve sbilanciarsi un po' di più per cercare almeno il pareggio perché sennò perde 1-0 e quindi riesce a trovare degli spazi sui quali ripartire. Quindi viene meno la prima condizione, cioè far fatica contro le squadre troppo chiuse. Queste secondo me sono le due letture principali al momento ed è proprio qui che Tiago Motta dovrà cercare di intervenire e migliorare perché non si può semplicemente dire che quando vengono e si chiudono tu non fai gol. No, non può assolutamente essere così perché sennò la Juve non va a fare un grande campionato, va a fare un campionato ricco, straricco, pieno, zeppo di pareggi, a volte anche deludenti contro squadre minori. Per rispondere a questa domanda del perché la Juve fa così tanta fatica a fare gol, vi faccio un'ulteriore domanda. Non so che inizia ad essere una sorta di effetto matrioska, però dobbiamo arrivarci. Qual è il giocatore migliore della Juventus in Serie A dal punto di vista della produzione offensiva? Questa è la domanda da farci. La prima domanda. Vi lascio qualche istante per pensarci, magari mettete in pausa il video e scrivete nei commenti, poi andate a modificare il commento al termine del video e completatelo con le informazioni. Ci siete? Benissimo. Il giocatore migliore della Juventus dal punto di vista della produzione offensiva in questa Serie A è Sam Bangula. E lo so. First reaction shock. È così. Bangula in questo momento ha segnato un gol con la Juventus, ha fornito due assist e si è procurato un rigore. Ben quattro contributi fondamentali a quattro gol della Juventus sui sei segnati. Significa che soltanto in due occasioni Bangula non ha messo lo zampino all'interno di uno dei sei gol segnati della Juve in campionato. Lo so, sorprende, ma è così. Questi sono dati di fatto. Quindi la risposta alla domanda è sì, il giocatore che oggi manca la Juventus è Bangula. Poi andiamo ad articolarla. Non è esattamente lui, che per me è un giocatore molto bravo. Sta facendo molto bene, i numeri parlano per lui in questa stagione con la Juventus. Poi qualcuno potrebbe dire è pronto, non è pronto, è giovane, non è giovane. Queste cose le lascio da parte, ma i compiti che ha svolto Bangula e ovviamente le caratteristiche che ha messo in campo sono state fondamentali per riuscire a fare determinate cose. Ma non solo per lui, ma anche per tutti i giocatori che gli orbitavano intorno. E allora dobbiamo andare all'interno del problema. Perché il problema grande, come è oggi, della Juventus è che le mezze ali sono troppo larghe. Alcuni giocatori amano giocare larghi, altri meno. E se consideriamo che una delle mezze ali della Juventus è il grande colpo di mercato, anzi, se vogliamo, i due grandi colpi di mercato della Juve potrebbero essere visti come le mezze ali. Quindi Cobb Mainers e Douglas Lewis. Se Douglas Lewis è un oggetto misterioso. E ne abbiamo parlato ieri all'interno del video che vi lascio qui sopra nelle schede. Perché è proprio nel video di ieri che andavamo inizialmente a spessare la squadra Juventus e cercare di capire quelli che sono i problemi. Andatevelo a vedere tranquillamente. Poi, tornate qui e proseguiamo con l'analisi perché secondo me è un'analisi molto molto interessante. Cobb Mainers e Douglas Lewis stanno facendo fatica a giocare così larghi. Questo è un dato di fatto. McKennie sta facendo meno fatica ma per un motivo. Cobb Mainers e Douglas Lewis sono due giocatori il cui riferimento principale è la pulizia, la qualità tecnica del giocatore. McKennie è un giocatore meno tecnico che è migliorato tanto negli anni ma che fa della quantità e della fisicità la sua arma migliore. Quindi McKennie si trova più a suo agio anche andando a coprire quelle zone di campo. Voglio parlarvi poi di Kenan Ildiz. Perché Kenan Ildiz quando ha giocato con Bangula in campo ha fatto molto bene. È stato secondo me il migliore in campo nella partita inaugurale con il Como. e nella partita con l'Ellas ha fornito un assist a Dusan Blaovic giocando nella sua posizione prediletta e cioè da tra virgolette, molte virgolette, ala che si accentra se vogliamo estremizzare ancora di più Ildiz con Bangula faceva letteralmente oltre quartista o la seconda punta che parte decentrata da sinistra. Per intenderci la posizione di Alex Del Piero. Quella posizione lì. Tra le linee partendo magari leggermente più decentrato alla sinistra e andando ad accentrarsi. Che se vogliamo è anche esattamente la zona, la casellina da cui poi Ildiz ha lasciato partire quel tiro contro il PSV anche se in quell'occasione ha giocato da esterno però è proprio lì che ha fatto male. È in quella posizione in cui Ildiz ha fatto impastire il Como in quella posizione in cui Ildiz ha fornito il passaggio per Blaovic contro Ellas è in quella posizione lì che Ildiz ha liberato il tiro col PSV. Anche se col PSV ha fatto un ruolo diverso è quella posizione lì quella di Ildiz perché lui è un giocatore che parte largo ma poi deve andare lì a centrarsi per liberare tutto il suo potenziale. Quando ha giocato Bangula e dall'altra parte c'era UEA sono stati due giocatori in grado di dare tanta ampiezza alla Juventus perché tutti e due pestavano veramente la linea laterale del campo con i piedi e non solo perché i giocatori che giocavano di fianco a loro nel 4-1-4-1 hanno interpretato il ruolo in un altro modo perché appunto Ildiz che ve lo ripeto è quella casellina lì che deve andare a occupare Ildiz per essere decisivo sul centro-destra non c'era ancora Cobb Maners non era ancora arrivato e lo faceva Locatelli Ildiz stringe vuole arrivare lì in quella casellina Locatelli non è un esterno non può interpretare il ruolo da esterno e quindi stringeva tanto così come un esterno non è Cobb Maners così come un esterno non è Douglas Lewis e nel secondo tempo magari per farvi ricordare un pochettino col Como quando escono UEA e Turam per infortunio ecco che la Juventus ha fatto un altro tipo di partita vi lascio anche questa analisi all'interno della playlist di analisi c'è l'analisi di Juventus-Como dove vi spiego come nel secondo tempo la Juventus abbia giocato in maniera differente con due esterni perché amano giocare sull'esterno come Bangula e Cabal che andavano a sovrapporsi continuamente e con Ildiz che aveva la possibilità invece di giocarne la sua casellina lì, proprio lì quindi dipende che giocatori possano andarsi a prendere l'ampiezza perché Cabal Bangula UEA McKennie riescono a trovarsi al loro agio sugli esterni quando ci metti Locatelli Cobb Maners Douglas Lewis magari lo stesso anche Ildiz fanno più fatica ed è proprio qui che dobbiamo andare a scavare ed è proprio qui che il nostro video entra all'interno della zona calda perché ho preparato questo che cos'è questo? è una delle disposizioni che secondo me la Juventus dovrebbe utilizzare per avere la miglior formazione possibile in campo non c'è Bangula lo vedete da voi ho voluto utilizzare UEA come esterno di destra e Nico come esterno di sinistra perché secondo me alla lunga questa potrebbe essere la disposizione giusta per la Juve e vado anche a spiegarvi il perché ma non ce n'è neanche troppo bisogno in realtà perché siamo arrivati a raccontarcela all'interno di questo video gli esterni che prendono ampiezza e Nico giocando sulla sinistra e non sulla destra non va ad accentrarsi per liberare il suo piede forte quindi il mancino bensì probabilmente potrebbe prendere più ampiezza per cercare di liberarlo magari con un cross o un retropassaggio lì indietro a questa posizione quindi comunque rimanendo molto largo io credo che alla lunga sarà Turam il centrocampista titolare nonostante Locatelli stia giocando molto bene però Locatelli sta facendo un po' faticare sul velocizzare i tempi di gioco quindi credo che Turam sarà necessario anche se non è un regista però è esattamente il prototipo di centrocampista ideale per Tiago Motta la difesa è questa qui io non ho niente da dire oggi sulla difesa è perfetta tant'è che la Juventus non sta veramente subendo o prendendo gol ne ha subito soltanto uno al novantesimo in Champions dopo che vinceva 3-0 staccato la spina abbiamo fatto anche una scalata difensiva un po' così lo lasciamo da parte Vlaovic oggi è l'unico attaccante presente nella rosa della Juventus ma voglio arrivare qui voglio arrivare a Ildis e Cobbeners questa secondo me è assolutamente la necessità della Juve perché? perché gli esterni fa gli esterni Nico e A sono rispettivamente un destro a destra e un mancino a sinistra solitamente noi giochiamo con Ildis a sinistra e con Nico a destra perché vuoi che questi giocatori poi convergano e vadano a liberare i loro piedi forti quindi Ildis dalla sinistra entra dentro il campo tira di destro come col PSV Nico dalla destra entra dentro il campo tira di sinistro come nell'occasione di quella parata che Chiesny ci raccontava che per lui è la sua miglior parata con la Juve queste sono le caratteristiche che voglia liberare in Nico e Ildis ma se noi invece che gli esterni andassimo a centrare i trequartisti perché oggi li facciamo giocare qui ma se invece noi i centrocampisti i trequartisti perché sono effettivamente i trequartisti li mettessimo qui con Ildis che parte leggermente largo magari anche con Beners ma poi sono loro che devono andare a centrarsi perché sono loro che devono prendere questa casellina Ildis è nella sua casellina e Ildis da qui può calciare può imbucare può far andare in sovrapposizione Nico perché se Ildis stringe Nico ha l'ampiezza o può infilare una palla per Weah molto interessante la stessa cosa con Beners perché è un mancino che gioca sul centro-destra e quindi anche lui potrebbe tirare e liberare il suo mancino invece oggi abbiamo con Beners di qua McKennie di qua Nico di qua e qui Ildis quindi abbiamo tutti i giocatori abbiamo proprio il contrario abbiamo gli esterni con piede invertito le mezzali con piede giusto secondo me invece la Juventus migliore sarebbe al contrario e cioè con i giocatori esterni con il loro piede forte e Nico dovrebbe fare un po' quello che ha fatto Bangula e invece i giocatori sulla tre quarti con il loro piede invertito per andare a liberare il tiro perché sono questi che devono stare centrali perché Ildis e Comayers vivono per giocare tra le linee invece che averli tutti larghi e gli esterni che si accentrano io farei esattamente il contrario e sono sicuro che Ildis e Comayers qui andrebbero ad aumentare la qualità e andrebbero ad aiutare anche Dusan Vlaovic ripeto l'unico gol di Dusan Vlaovic e su azione nasce proprio perché Ildis in questa posizione lo imbuca dopo un recupero palla di Locatelli che potrebbe essere invece in questo caso Turan anche in questo caso la Juventus avrebbe la possibilità di sviluppare a 3-2 come abbiamo già visto fare tante volte andare a formare questo quadrato che agevola il possesso palla va a migliorare la qualità del palleggio e garantisce ovviamente l'ampiezza negli esterni sui difensori io prima vi ho detto che sono perfetti sì concordo è un mio feticcio puramente un mio feticcio sta funzionando benissimo anche così però stiamo facendo il video di come secondo me la Juventus potrebbe arrivare nella sua versione migliore quindi permettetemi una piccola modifica anche a un reparto che sta andando molto bene perché quando vedo questa disposizione di difesa 3 io impazzisco che non è una difesa 3 vera e propria è una difesa 3 sullo sviluppo sulle scalate dei giocatori in campo perché devono andare a occupare quegli spazi però per me si può fare ancora meglio perché Bremer è per definizione il centrale della difesa 3 perché Gatti anche l'anno scorso l'abbiamo visto come braccetto di destra della difesa 3 e perché Calulu che è destro però per me può giocare anche come centro-sinistra nella difesa questa potrebbe essere in assoluto la miglior disposizione della Juventus proprio in assoluto poi si può ragionare si può ragionare perché ovviamente dopo la disposizione in fase di non possesso palla sarebbe la seguente e non cambia assolutamente niente rispetto a quello che già fa la Juventus si tratta soltanto di andare a interpretare la fase di non possesso molto bene in maniera molto efficace come la Juve in realtà sta già facendo quindi questa formazione qui questo 4-1-4-1 che quando si imposta diventa un 3-2 è la miglior versione della Juve poi si potrebbe arrivare a una versione ulteriore in cui la Juve già ragiona effettivamente come una squadra che va a sviluppare 3-4-2-1 perché poi la volontà della Juve è arrivare qui no la volontà della Juve è arrivare a giocare con questa disposizione questo è già il 3-4-2-1 questo è un 3-4-2-1 a tutti gli effetti quindi si potrebbe ragionare su una roba di questo tipo magari in cui non lo so qui ci entra Locatelli o qui ci entra Douglas Luiz e la Juventus va a giocarla in questo modo che questo se vogliamo banalmente è anche un 3-5-2 quindi di soluzioni siccome ce ne sono tante si tratta soltanto di capire cosa vogliamo fare siccome il problema più grande della Juve oggi è il fatto che le mezzeali sono troppo larghe insieme agli esterni e invece in quella posizione lì Ildiz e con Meners dico loro perché per me sono i riferimenti centrali migliori di questa Juve devono giocare più centrali e invece gli esterni devono sempre stare con dell'ampiezza e credo che alla lunga UEA a destra e Nico a sinistra possano essere le scelte migliori in assoluto ma anche di questo io attendo la vostra valutazione che ci sono state nei commenti è molto importante fatemi sapere se secondo voi ho detto una cazzata incredibile le aggiungiamo all'elenco delle cazzate dette in questi anni o magari un minimo di logica lo potete aver visto intravisto e condiviso aspetto i vostri commenti qui sotto nell'apposito spazio come sempre vi ricordo di lasciare un mi piace a questo contenuto ed iscrivervi al canale se volete esagerare ci sono anche gli abbonamenti che vi fanno vedere in anteprima i video e ci sono anche dei contenuti esclusivi per gli abbonati ad ogni modo io vi ringrazio per l'attenzione per essere arrivati fino a questo punto e noi ci vediamo domani con un altro video ciao ragazzi